bella ragazzi e mediati costruite da Digno oggi ragazzi video specialissimo perché come avete letto dal titolo e visto dalla miniatura ho comprato un nuovo cane oltre a Totò si chiama Kubra adesso sono seduta su delle scatole lei ha solo 5 mesi mi ha paura la tiro su madonna ecco ecco adesso vi metterò un po' di sulle cose oggi io sto facendo un altro video importantissimo che vedrete sabato, domani quindi la uscirà domani oggi guarda, guarda la carica Kubra, Kubra ho chiamato a Kubra perché è come Kubra di mare fuori vediamo se riesco a tirarti più su ecco ecco vabbè è abbastanza grande adesso vi metterò delle sue immagini e video e niente questo video vi piace e godetevi queste immagini Kubra che c'è? che c'è Kubra? Kubra 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 picc chiampi? Xenia 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 non si fa Non si picio a terra Xenia 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 già capisce seduta dammi la zampa tipo noi gli diciamo vuoi il biscottino dammi la zampa vabbè spero che a farvi da molti video spero vi piaccia soprattutto perché comunque è una razza molto è razza cioè un tipo di cane molto raro quindi spero che questo video vi sia piaciuto era diciamo non così vabbè spero vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella perché giovedì prossimo uscirà un altro video i sorteggi ma di cosa lo scoprirete molto presto quindi noi ci piacciamo in un prossimo video bella ragazzi